Sequestrata oltre una tonnellata di nove lame di sarda, comunemente chiamato Bianchetto. L'operazione è stata effettuata dai militari della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro e si è protratta per l'intera nottata. I militari in località Turio di Corigliano hanno infatti intercettato un carico di nove lame contenuto in oltre 110 cassette di polisterolo, pronto per essere immesso illegalmente nella filiera commerciale della pesca e se venduto al dettaglio avrebbe affrontato oltre 15.000 euro. Il pescato è stato sottoposto a sequestro e sarà distrutto in quanto giudicato non idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell'ASP. Sempre nella stessa giornata, a seguito di una laboriosa attività di controllo e ricognizione, gli uomini della Capitaneria di Porto avevano sottoposto a sequestro una rete di tipo sciabica in quanto attrezzo non consentito, trovata in possesso di un pescatore di cariati al quale veniva erogata la sanzione amministrativa di 4.000 euro. Lo sfruttamento indiscriminato e la cattura del nove lame di pesce sotto misura impedisce alle specie ittiche di nostri mari di raggiungere la taglia minima consentita per la commercializzazione e per la riproduzione.